Non bisognerebbe mai guidare sotto stati alterati, ma di tutti gli stati alterati, fatto è il meno pericoloso. Non difenderei questa posizione in un tribunale. Quando hai fumato lo sai che non hai riflessi, è il contrario di quando hai bevuto. Presente quando hai bevuto fai tipo, dammi le chiavi, guido io, ho detto, ce la faccio. Invece quando hai fumato è tipo, prenda le mie chiavi, mi porti a casa lei, pure se non la conosco, che fa? Io mi fido, quando arriviamo le cucino una cosa, come la vede? Siamo amici. Lei per me è un fratello. Oppure se devi guidare vai pianissimo e basta che con la coda dell'occhio vedi una macchina col portapacchi e fai Sono loro, sono loro, non sparate, non ho sbagliato, non sparate. Oppure che vai piano, pianissimo, ti fermi allo stop e aspetti che diventa verde. Pregi all'occhi e Canada. Aplique! Aplique! Grazie.